Centinaia di scarpe rosse abbandonate lungo i gradini della scalinata monumentale del Duomo di Amalfi a ricordare tutte le vittime di femminicidio. Tante ancora, troppe vite spezzate dalla furia omicidia dell'uomo. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite, Amalfi lancia un messaggio forte attraverso un flash mob per dire basta ad ogni violenza di genere. Presenti tantissime donne, gli studenti dell'Istituto Superiore Marini Gioia di Amalfi, le associazioni di volontariato, la magistra di civiltà amalfitana Marisa Cuomo insieme alla consigliera Enzia Cobalto e all'assessore Francesca Gargano, promotrici dell'iniziativa. In primo piano anche una corona dall'oro per Giulia Cecchettin. A Napoli i ragazzi dell'area penale invece, accompagnati dai palombari della Marina Militare e dagli istruttori del Mare Nostrum, hanno detto basta la violenza contro le donne e lo hanno fatto dai fondali marini del Golfo Partenopeo. I ragazzi hanno esposto la bandiera con la scritta basta violenza sulle donne in un contesto bello, significativo, quello del Golfo di Napoli, su un'imbarcazione confiscata e gli scafisti strappata proprio alla violenza. Il messaggio che deve passare è che noi siamo parte di un equipaggio e chi fa parte della Marina Militare ha come fondamento di base quello che nessuno deve rimanere dietro, quindi tutti fanno parte dello stesso equipaggio, rispetto, reciproco, verso tutto e verso tutti. Oggi volevamo dalla Marina Nostrum Diche lanciare un messaggio di stop alla violenza sulle donne, anche con i ragazzi dell'area penale minorile di Napoli, perché pensiamo che sia estremamente importante lanciare questo messaggio anche dopo gli avvenimenti che hanno visto protagonista Giulia Cecchettin e il suo femminicidio. Abbiamo pensato insieme a tutti loro di lanciare anche noi questo messaggio, un po' prendendo spunto dalle parole della sorella, di fare rumore, di non dimenticare cose simili, queste donne, queste ragazze.